Allora ragazzi Adesso stiamo andando Purtroppo senza Matteo che è a scuola A fare un giro con un altro ragazzo con un TM In una strada Tutta curva Sul mare Facciamo qualche video Scarniamo un pochino Ci divertiamo Facciamo qualche foto E basta Adesso Mi incontrerò con Questo ragazzo con il TM Al benzinaio Ci vogliamo dire Parle 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ora aspettiamo Davide. Grazie a tutti. Non rispondo. Grazie a tutti. No, no, qua c'è il sacco. Va bene, perché io non so quanta ne ho, però penso che la dovrò fare arrivati a Santa Tecla. Ho capito. Va bene, va bene, allora tu falla qua. Io siccome non so quanta ne ho, la faccio là. Va bene. Dai, ti aspetto qua al benzinaio. Ciao, ciao. Ciao. Sì, lo so, però adesso conta che gli sto mettendo, già mi è arrivata testata VHM. È più alti più bassi qua? No, no, più alti più alti. No, più alti più bassi. No, fra, ho sentito anche altri ragazzi che l'hanno messa. Gli ho chiesto proprio. Ma perde in basso. Loro hanno detto un po' sì, però guadagna tanto in alto. Forse nelle motovendure se si ingressa più alti po'. Dipende che tipo la io lascio quella giusta. Quella giusta per la mia. Mi hanno dato la misura al concessionario. Testa VHM. Adesso il pistone nuovo. Sta arrivando che ho a 180 ore questo. Vabbè, alla fine tu la te l'azzi bene. Vabbè, pistone nuovo. Il cilindro me lo faccio lavorare, già che ci sono. Testata VHM e DBR in titanio mi deve arrivare. Il blocco è smesso di fare i lavori, perché il blocco è ancora a tirare. Cioè, proprio lo senti che tira gli altri. Garbo l'ha reglata. E altre cose. Andiamo qua. Ok ragazzi, è arrivato Davide. L'arrivo sull'ATM che sta tipo strumento il portatarga. E ora andiamo. Allora, intanto una cosa. Vieni, vieni. Allora, io pensavo una cosa. Andiamo o fino a Santa Tecla o fino a Stazzo. Ci mettiamo là, perché all'inizio è discesa, quindi ce la facciamo un po' più con calma. Ci mettiamo là, tipo nella zona del porto, facciamo due video, due foto, qualche cosa. E poi a salire ce la facciamo un po' più... Tu dici, che dici, Santa Tecla o Stazzo? Arriviamo fino a Stazzo o a Santa Tecla? Sì, arrivai a dove vuoi. Cioè, ora che è stato in più, mi dura fino almeno più posto. Sì, perché stanno andando, non so. Vabbè, ora poi decidiamo. Poi io ho anche 30 amore di pistone, con lui 300. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Andiamo Lampeggia Ok abbiamo fatto benzina e siamo pronti per ripartire 2.000 anni dopo Poi per questa strada sarà bella farla in salita Adesso andiamo Un porto dove fare due bugi carini sul mare E poi ce la rifacciamo in salita E niente Andiamoci qua dove c'è questo Ne scendiamo Ma sai che io quasi quasi la scena Il problema è girarla Se avessi avuto anche delle tassellate era un colpo Perché in maniera facile Ma con il prossimo tardi E' un'altra cosa Perché i bugi tutte le cose Si Ok abbiamo fatto un paio di cose Adesso ci stiamo spostando Vediamo Che Allora torniamo e facciamo quel stato inserito 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.